Bene, allora abbiamo GVR installato lo sappiamo perché qui abbiamo questo bel Google VR come cartella negli assets e adesso andiamo nella nostra scena che è questa Sample Scene e questa Sample Scene cerchiamo adesso di arricchirla con le solite nostre cosucce quindi io adesso per il video metterò semplicemente un piano e un cubo voi probabilmente ci metterete una scena importata da Blender presumibilmente facciamo semplicemente un 3D Object prendiamo un piano che sarebbe il nostro pavimento e possiamo tenerlo anche semplice così e se voi importate qualcosa da Blender ricordatevi sempre di mettere il Mesh con Lider o con Lider perché se no non ci passate attraverso o cadete quando poi farete il personaggio e noi aggiungiamo un ulteriore oggetto 3D che sarà un cubo e questo cubo lo mettiamo un pochino più su quindi vedete che abbiamo il cubo che sta su e questo cubo gli mettiamo un materiale che creiamo sul momento che sarà un materiale per dargli il colore quindi facciamo un materiale quindi facciamo un materiale chiamiamolo rosso e in questo materiale gli mettiamo nell'albedo qua gli mettiamo il colore rosso e poi trasciniamo questo materiale sul cubo ok giusto per avere un pavimento bianco e il cubo rosso che almeno si riesce a riconoscere il cubo sullo sfondo ora questo cubo lo facciamo ruotante quindi per farlo ruotante dobbiamo aggiungerci uno script quindi vuol dire che qui clicchiamo sul cubo e aggiungiamo un component add component e in questo component ci mettiamo rotate o ruota anche facciamo in italiano ruota notare che usiamo sempre la lettera maiuscola per gli script e quindi qui facciamo no scusate facciamo new script quindi abbiamo cercato script facciamo new script e lo chiamiamo ruota e facciamo create and add facendo questa operazione viene attivato e viene lanciato praticamente il nostro il nostro questo oggetto qua però non è partito un secondo torniamo quindi dobbiamo andare sullo script che ci ha aggiunto che è questo ruota vedete che ruota è comparso qui sotto a fianco di scenes e magari lo mettiamo sotto scenes così almeno ce l'abbiamo ce l'abbiamo figlio fratello insomma di queste cose e facendo il doppio clic sullo script ci apre e questa volta si ci apre questo script che è quello che ci interessa ora in questo script provvisoriamente ci facciamo un transform punto rotate che qui non mi ricordo mai se è transform dovrebbe essere transform minuscolo punto rotate e poi gli mettiamo praticamente la cosa per cui deve ruotare e la cosa per cui deve ruotare la facciamo semplicemente vedete che vuole un vector 3 vector 3 vuol dire che sono tre numeri che sono gli assi attorno ai quali deve ruotare e quindi diciamo che ruota attorno all'y che è quello verticale quindi facciamo 0 e diciamo che mettiamo una speed per questo va sempre moltiplicato per time punto delta time che indica praticamente questa cosa è fondamentale mettere sempre time per delta time perché è giusta cioè il delta time varia a seconda di come viene chiamato questo update a seconda se il computer è lento o meno e quindi questo permette di avere una rotazione uniforme questo speed vedete che ci dà errore perché dobbiamo gestirlo abbiamo visto dobbiamo fare un public la speed era un float speed uguale 1f ok così abbiamo se Dio vuole speed per dunque qui rotate ah si perché abbiamo bisogno ancora di un parametro che è 0 rotazione lungo l'asse Z quindi rotate fatto così fa ruotare il nostro cubo per vedere che effettivamente il cubo sta ruotando andiamo di nuovo nel progetto facciamo il dunque ci accertiamo che cliccando sulla camera che si vede il cubo e magari avvicinandolo un pochino facciamo il solito salva ricordiamoci sempre di salvare facciamo play e quindi vedete che il cubo ruota si sembra ruotare ma ruota lentamente però noi abbiamo la possibilità di cambiare la velocità nel senso che noi andiamo sul cubo e qui sul nostro speed sul nostro ruota possiamo mettersi ad esempio 20 vedete con 20 già il cubo ruota in maniera più decente e possiamo mettergli meno 20 meno 20 per farlo ruotare dall'altra parte ok ora cosa dobbiamo fare di questo cubo vogliamo che vederlo in realtà virtuale e soprattutto interagirci allora la prima cosa da farsi è quello di aggiungere una simulazione di android perché fare tutte le prove che dovremmo fare per vedere se ci piace o meno la scena quindi compilare fare tutto il trigo eccetera ci impieghiamo sui 3-4 minuti insomma per iterazione invece magari dobbiamo solo vedere una cosina quindi ci conviene andare sul qua e cerchiamo gvr editor mi sembra che si chiami editor emulator quindi ci mettiamo l'editor emulator e lo mettiamo nella scena allora quando c'è l'editor emulator sulla scena vuol dire che noi possiamo aspettate ricordiamo sempre che se il gioco è in esecuzione qualunque cosa noi facciamo non funziona quindi dobbiamo sempre o comunque viene persa io sono perso un sacco di cose perché mentre in esecuzione facevo delle operazioni cambiavo dei dati e poi invece non andava bene ok adesso impariamo il primo trucco primo trucco qui vuol dire come configurare questa scena in modo tale che possa essere visibile a google cardboard quindi la primissima cosa da fare qui è di creare un player adesso qui l'avevo già creato prima quindi togliamo e lo ricreiamo quindi il player lo facciamo come un empty empty vuol dire andare qua e fare un 3d object anzi create empty è proprio la prima cosa create empty lo chiamiamo f2 player e ci mettiamo immediatamente sotto player quindi figlio di player ci mettiamo la camera avendo cura che la camera sia resettata a 0 facciamo reset ora la camera è resettata a 0 però questo vuol dire che dobbiamo poi muovere l'empty in modo tale da vedere la scena che ci interessa ok per esempio questa e eventualmente quella diventerà praticamente la camera su cui noi lavoreremo ora per fare la demo quindi già così in realtà funzionerebbe sul google cardboard non la vediamo ma voi potete fare la prova ma per poter fare una simulazione da dentro da dentro unity qui andiamo e cerchiamo gvr editor e abbiamo un gvr editor emulator gvr editor emulator lo mettiamo qua sotto quindi diventa fratello di tutto e questo editor emulator lo mettiamo in un punto qualunque tanto quello che il motivo per cui serve questo editor emulator serve solo per poter fare le simulazioni quindi facciamo alt più move mouse o control più move mouse per per muovere diciamo il cardboard far finta di muoverlo ok quindi proviamo a vedere adesso salviamo scena facciamo play e vediamo se cosa succede effettivamente vedete che abbiamo il nostro cubo che gira e se noi facciamo alt vedete che praticamente ci muoviamo in alto in basso a destra a sinistra e se premiamo control vedete che ci incliniamo a sinistra a destra quindi facciamo praticamente i tre assi che ci interessano qui innanzitutto facciamo la piccola modifica del cubo e gli mettiamo la speed a 10 che abbiamo detto che veniva un pochino meglio quindi in questo modo se voi entrate in google android vedrete che effettivamente potete muovervi e vedervi il vostro cubetto che gira davanti a voi questo è tutto per la seconda parte adesso poi nella terza parte vedremo di interagire col cubo e o di muoverci grazie a